Appena detto il Presidente che c'è una trattativa in corso per rimanere qua, facciamo questo piccolo scoop, cosa puoi dirci? Cosa devo dire? Vediamo come va a finire, sarei molto felice di poter ritornare e cercare di avere da quest'anno una continuità che mi permetta di concretizzarmi sempre di più anche in piccoli spazi, lavorando soprattutto dopo una stagione terribile come quella dell'anno scorso. Può dire che torni a Sena a fare un po' di aggiornamento anche tecnico-tattico, nel senso che il lavoro qua, Summers ha appena detto che è di altissimo livello, conta tanto anche lavorare al di là dei 40 minuti? Quello sicuro, per determinati giocatori con determinate strutture, questo staff tecnico e medico danno una qualità di lavoro che è eccezionale e sicuramente aiuta tantissimo a migliorarsi e a far bene sicuramente in tutto l'arco della stagione, anche di più degli anni, singola aspettativa. Poi c'era Pietro Radori che stava provando a tirare dietro a te, insomma anche il gruppo conta? Quella è la base di tutto e su questo basta vedere anche nei grandi risultati degli ultimi anni, il gruppo è sempre stato la base di qualsiasi risultato fantastico ottenuto qua, sono stati sempre bravi a far creare dei gruppi unici e concreti. Luca lupo, treppi il lupo.